È possibile ricreare il lavoro riabilitativo che si esegue in piscina senza essere in acqua? Da oggi sì, grazie al metodo viscoso di Kineo, il più innovativo dispositivo per la rieducazione funzionale. Sono Laura Moro, kinesiologo, massofisioterapista e una dei fondatori di Spazio Medica, un poliambulatorio di fisioterapia e rieducazione funzionale a 90 Vicentina. Ci occupiamo quotidianamente di tutte le patologie muscoloscheletriche, dando molta importanza all'esercizio terapeutico, che costituisce la maggior parte del percorso terapeutico dei nostri pazienti. Kineo è una macchina intelligente che rivoluziona tutto il modo di lavorare in ambito rieducativo. Permette, oltre ad un'ampia gamma di esercizi, di poter scegliere tra ben sette modalità diverse di esercizio muscolare, isometrico, isocinetico, isotonico con e senza inerzia, viscoso, con carico variabile ed elastico. Fornisce inoltre un biofeedback continuo e in tempo reale che guida il paziente in tutta l'esecuzione dell'esercizio per migliorarlo di volta in volta. Inoltre è possibile, grazie al suo software, poter gestire l'andamento progressivo in tutto il percorso fisioterapico della forza muscolare del paziente. Sono tre le caratteristiche che mi hanno spinta a volere Kineo in spazio medica. La prima è sicuramente quella più rivoluzionaria ed è la possibilità di ricreare gli stessi benefici del lavoro riabilitativo che si esegue in piscina anche in assenza di acqua. Questo è possibile utilizzando il metodo viscoso che simula perfettamente il lavoro in acqua e durante il quale la resistenza viscosa aumenta o diminuisce il carico in funzione della velocità di esecuzione di ogni singolo movimento del paziente, assicurandogli in questo modo la totale assenza di dolore. Seconda, l'esercizio con Kineo non stimola soltanto il muscolo coinvolto nell'esecuzione del movimento ma l'intero sistema neuromotorio andando alla ricerca del miglior adattamento posturale ad ogni singola esecuzione e portando quindi il paziente ad un lavoro via via sempre più consapevole del proprio corpo. Terza, Kineo è lo specialista del lavoro eccentrico. Permette di poter differenziare il carico di lavoro tra la fase concentrica e quella eccentrica andando ad evitare i sovraccarichi articolari e sviluppando la forza elastica. Possibilità quest'ultima che in ambito riabilitativo aiuta molto a livello preventivo soprattutto gli sportivi ed è utilizzata in tutte le altre patologie. Con Kineo io e il mio team aumenteremo e miglioreremo la performance riabilitativa che offriamo ai nostri pazienti e pensate per un attimo a quei pazienti che devono fare un percorso riabilitativo in piscina ma chi in acqua non ci vogliono andare. Da oggi con Kineo potranno ricreare gli stessi benefici del lavoro in acqua ma senza immergersi.